Allora direi che possiamo ufficialmente iniziare questo laboratorio sul respiro, il maestro come respiro e questa sera siamo ospite del gruppo di Lodi con l'amico Vittorio quale referente, una volta si diceva la console, cioè si rimedono, non so se forse è generazione X o boomer addirittura, comunque si rimedono che ci dà una mano nella gestione tecnica del tutto. Diversi gruppi hanno partecipato affinché questo evento sia potuto avvenire, ora come ora appunto in primo piano c'è Vittorio, iniziamo appunto da Vittorio che poi ritroveremo a sorpresa verso a metà di questo incontro, di questo evento, gli ho chiesto proprio di essere coinvolto per un insegnamento e scoprirete perché. Vittorio vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare? Buonasera Gian, buonasera a tutti, è un piacere come sempre essere qui e sì, poi tra un pochino interverrò come insegnante di canto, io sono un insegnante di canto in questo momento, sono un musicista, dicevo appunto che sono un musicista e condividerò con voi un po' quello che è il respiro anche nella parte del canto, ecco, ho fatto un piccolo spoiler. Va bene, concesso lo spoiler, io ho perso nuovamente me stesso. Il che non è un buon inizio? Dove sono? Non mi vedo più. Dovresti, forse dovresti cambiare dalla galleria, perché normalmente noi siamo i primi, il primo in assoluto, dovremmo essere sempre fissi sul primo. Eccomi, sì. Allora, ok, allora iniziamo. Iniziamo il laboratorio e prima di tutto inizieremo con una meditazione guidata. Questa meditazione guidata è un po' particolare rispetto a quelle che di solito vi offro. Questa sarà centrata espressamente ed esclusivamente, almeno per quanto riesco, sul corpo, o meglio, sul sentire il respiro all'interno del corpo. Ecco, perché è diversa dal solito, è diversa dal solito, scusatemi, è diversa dal solito perché, perché talvolta nelle meditazioni guidate, le meditazioni guidate possono essere semplici istruzioni da seguire, e poi talvolta possono essere anche promuovere, incoraggiare determinati stati mentali o emotivi. Di solito io tendo a fare una combinazione delle due, mettere assieme delle istruzioni, ma anche creare proprio un ambiente emotivo-mentale con cui è più facile sviluppare altri determinati stati mentali. Questa volta invece cerchiamo di respirare come si manifesta nel corpo. Perché successivamente, presumo verso il quarto incontro, faremo invece una meditazione guidata, dove in qualche modo andiamo a reintegrare anche quegli aspetti più legati agli stati mentali e agli stati emotivi. e avrete conseguentemente modo anche di verificare la differenza tra questi due approcci, da queste due alternative. E inoltre ci permetterà questo qui di vedere il legame che c'è fra il respiro e stati emotivi e stati mentali. Tutti sappiamo che il corpo e mente sono fra di loro connessi, sono fra di loro legati. E il respiro in questo caso noi lo utilizziamo come un modo per comprendere qual è non solo il legame fra di loro, ma come si possono influenzare vicendevolmente. Però ci focalizzeremo invece solamente sul corpo, proprio sugli aspetti più fisici della respirazione, del respiro. Iniziamo con una meditazione guidata e poi da lì svilupperemo. Praticamente avrete capito chi vuole parlare, alza la mano, fa un segnale e verrà attivato il suo audio. Ok, allora direi che possiamo iniziare con la meditazione guidata. Tutto fa parte di un esperimento, non prendete il singolo fenomeno. Cercate di capire che quello che stiamo facendo ora avrà un impatto su quello che succederà successivamente. Questo è per dirvi, cercate di osservare quello che sta accadendo, perché poi dopo verrà rielaborato nel corso sia di questo incontro che di quelli successivi. Verranno messi assieme via via i pezzi. E' simpatico, no? Simpatico questa atmosfera. Veramente non sai cosa potrebbe accadere. Ecco perché ci prepariamo al meglio chiudendo gli occhi e iniziamo la nostra meditazione. Ok. Ad occhi chiusi. Ok. 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 Mettiamo da parte le distrazioni del mondo. Pissiamo la presenza mentale in noi. E osserviamo il respiro. Ok. Ok. Grazie. Sentiamo l'ispirazione e l'espirazione. Prestiamo attenzione all'ispirazione e all'espirazione. Possiamo sentire l'aria fresca che entra. Con il tocco alle narici o sul labbro superiore. E poi l'aria calda, più calda che esce con l'espirazione. E l'aria entra e l'aria esce. Restiamo attenzione all'ispirazione e all'espirazione. Grazie. 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 Passiamo ora alla iniziana del petto. E prestiamo attenzione al torace che si alza e al torace che si abbassa. Ispirando il torace si alza ed espirando il torace si abbassa. E l'aria entra e l'aria esce. E l'aria entra e l'aria esce. Il torace si alza e il torace si abbassa. E l'aria entra e l'aria esce. Passiamo ora alla zona del torace. L'addome. E anche qui osserviamo il respiro. Con la pancia che si gonfia. E la pancia che si gonfia. E l'aria entra e l'aria esce. E l'aria entra e l'aria esce. E la pancia si gonfia. E la pancia si gonfia. E la pancia si gonfia. Allarghiamo ora la nostra attenzione a tutto il corpo. E osserviamo il movimento del respiro nel corpo. Con l'ossigeno che irrora il corpo. E il respiro che crea movimento. Con l'aria che entra e l'aria che esce. E il respiro che pulsa nel corpo. E si manifesta con calore. E pulsazione. E pulsazione. E E L'area entra e l'area esce. L'area entra e l'area esce. Ritorniamo ora alla zona del naso. Nuovamente prestiamo attenzione al respiro in quella zona. L'aspirazione e l'aspirazione. E la zona del petto. Col torace che si alza e si abbassa. E la pancia. E si confia e si confia. L'aspirazione e l'aspirazione. E l'area che entra. E l'aria che esce. In tutto il corpo. Il movimento che genera il respiro. Il calore. Le pulsazioni. E l'aria entra. E l'aria esce. Esce. E l'aria entra. E l'aria esce. esce ad occhi aperti manteniamo la presenza mentale del respiro e riprendiamo la nostra conversazione che cosa abbiamo cercato di fare in questa breve meditazione guidata abbiamo cercato di ritornare al corpo o meglio abbiamo cercato di ritrovare il respiro nel corpo vi ho suggerito tre punti tre punti classici standard dove in genere si va a raccogliere la mente o meglio non tanto raccogliere la mente ma punti che si vanno a osservare per entrare in contatto con il respiro per iniziare a familiarizzare per iniziare ad avere una conoscenza diretta con il respiro la zona attorno alle narici del labbro superiore il petto e l'addome e poi dopo però anche enfatizzato il fatto che è tutto il corpo che respira l'invito è quello di iniziare ad avere un rapporto diretto con il respiro non mediato attraverso il pensiero un respiro che non è pensato quindi ma che è vissuto nel corpo perché poi dopo attraverso questa nostra abilità di ascoltare il respiro nel corpo potremmo anche capire i legami che ci sono fra il respiro che ci sono fra il respiro e gli stati mentali ed emotivi e le qualità che ha il respiro perché il respiro non è semplicemente un atto fisico è un'espressione anche della mente proprio dovuto alla connessione che c'è fra corpo e mente e il respiro è un respiro è un respiro è un respiro e l'espressione anche del corpo è quella potenzialmente più diretta per interpretare e capire la mente interpretare non è il termine giusto è in realtà la mente che interpreta il respiro lo so, ora forse vi sembra strano ma successivamente diventerà il tutto più chiaro molto probabilmente fra questi punti che abbiamo menzionato alcuni mi sono risultati più facili da osservare altri meno non escluso che la presenza mentale su tutto il corpo quella lì sia stata un po' più vaga perché era fuori del concetto ordinario di respirazione era fuori dall'apparato respiratorio e allora era il movimento che prendeva il primo piano o gli effetti che sembrano marginali ma che fanno parte della respirazione stessa sono la respirazione in termini più sottili, più raffinati legati non semplicemente quindi all'attività dell'apparato respiratorio ma gli effetti che l'ossigeno ha nel momento che inizia a entrare in circolo nel corpo e a dare vita alla nostra esperienza però forse un altro aspetto che vi è risultato difficile è quello comune a molti della respirazione addominale non ci siamo abituati alla respirazione addominale però quella col diaframma però è molto importante proprio perché ci offre una possibilità una porta di accesso alla mente e anche a degli stati mentali specifici per cui ecco che ho chiamato in soccorso vittorio perché vorrei per le persone che non hanno ancora esperienza con questo tipo di respirazione che potessero avere degli strumenti degli esercizi da fare per poter iniziare a familiarizzare con questo tipo di respirazione l'ho chiamato anche perché come avete capito vittorio non solo è un musicista ma è anche un insegnante di canto e e noi stiamo cercando di fare di usare il respiro come un canto come un qualcosa che dia armonia alla nostra vita mi sembrava bello quindi che cedere la parola a un insegnante di canto per farvi vedere degli esercizi e poi dopo dopo questi esercizi riprendiamo a ricontestualizzare come come utilizzarli nella questo approccio sul respiro e poi anche come proseguire io a questo punto mi metterei in ascolto di vittorio insegnaci a cantare sei muto vittorio sei muto il che è un paradosso per un cantante ok si rimedono mi aveva silenziato adesso adesso ci sono mi sentite si grazie Gian sei come sempre molto gentile sono onorato di dare il mio piccolo apporto a questo a questo incontro allora intanto per cominciare qualcosa di interessante noi tutti esseri umani respiriamo dai sedici abbiamo dai sedici a venti atti respiratori al minuto questo vuol dire che in un mese noi respiriamo 690.000 volte in una vita un uomo di 70 anni in linea generale respira 580 milioni di volte ora ci sono diversi modi di respirare quelli principali sono due cioè c'è una respirazione alta e c'è una respirazione diaframmatica adesso poi andiamo a vedere nel dettaglio velocemente che cosa è il diaframma che non è altro che un muscoletto che vedremo vedremo anche come è fatto un'altra cosa ecco molto importante e interessante è capire che quando nasciamo fino all'età di tre anni noi respiriamo con l'addome quindi respiriamo abbiamo la respirazione diaframmatica naturale quindi poi dai tre ai sette anni inizia una respirazione mista quindi diaframmatica e di petto quindi bassa ed alta per adesso la respirazione diaframmatica la possiamo chiamare bassa e dai sette anni in avanti principalmente la respirazione diventa alta ora nella mia esperienza per esempio di insegnante insegnante di canto quando le persone vengono qui e parlo del cento per cento delle persone respirano dopo vi farò vedere dei filmati fatto con un mio allievo respirano in questa parte quindi dalla parte del petto fino allo stomaco e la parte bassa dei polmoni normalmente viene riempita poco questo non succede per esempio nella meditazione quando il corpo si calma automaticamente si va a respirare anche nella parte bassa quindi diciamo che in certo modo quando siamo calmi quando stiamo bene si inizia a respirare la diaframma quindi diaframma ci aiuta a respirare riempiamo prima la parte bassa dei polmoni e poi andiamo a riempire della parte alta questo soprattutto nel canto è importante perché quando abbiamo i polmoni pieni il nostro respiro è lungo quando abbiamo i polmoni che sono pieni a metà come nella respirazione alta il nostro respiro è corto esempio quando ci spaventiamo o quando siamo arrabbiati la prima cosa che facciamo è respiriamo di petto facciamo questo oppure questa è proprio la classica respirazione alta adesso ci sono dei semplici esercizi che vi mostrerò prima di tutto vi mostrerò il diaframma così cominciamo a capire che cosa è questo piccolo muscolo che ci aiuta a respirare adesso chiederei a Stefano di mandare se possibile l'immagine zero arriva subito grazie ecco questo è il diaframma come vedete si trova nella parte bassa quindi nelle coste nelle costole basse legato chiaramente anche alla colonna vertebrale questo questo è il muscolo del diaframma che ha questa forma come vedete ad arco e l'ingresso è il muscolo principale che ci permette di respirare grazie Stefano se la tiri via ok quindi diciamo che il diaframma ha questa forma quindi è questo muscoletto che si trova nel punto in cui abbiamo visto e nel momento in cui noi inspiriamo il diaframma si abbassa fa questo movimento e quindi i polmoni poggiano completamente di fatti nel canto si chiama poggiare nel momento in cui espiriamo quindi il diaframma ritorna nella sua posizione originale e questo si chiama sostenere forse avete sentito la parola sostegno qui però entra in ballo l'apparato fonatorio che è un'altra cosa quindi nel momento in cui noi sosteniamo non facciamo altro che emettere una nota compressa e a quel punto le corde vocali vanno a muoversi in particolare modo che adesso non stiamo a vedere a noi quello che interessa è cercare di capire come imparare a respirare basso come imparare a respirare col diaframma perché la respirazione diaframmatica è la respirazione della calma quando c'è il raggiungimento di samatha nella meditazione sicuramente la respirazione è diaframmatica noi andiamo a riempire prima la parte bassa dei polmoni e poi andiamo a riempire la parte alta questo ci porta calma ci porta tranquillità e nel canto poi porta altre cose che non è il caso di vedere in questa serie adesso se Stefano mi mette la figura 1 vediamo un attimino il diaframma com'è fatto eccolo qui questo è il muscolo del diaframma nel momento in cui io respiro diaframmaticamente quindi vado ad abbassare il diaframma quindi abbiamo questo abbassamento e nel momento in cui io inspiro il muscolo si stira vedete stiramento orizzontale allungamento del muscolo è quello il momento in cui i polmoni si riempiono di aria e poi c'è l'atto dell'espirazione quindi nell'abbassamento abbiamo l'atto dell'inspirazione e nell'espirazione abbiamo lo stiramento orizzontale dovremmo pensare come se questo diaframma fosse un elastico che si tira e grazie ai nostri all'apertura costale quindi delle nostre costole i nostri polmoni si riempiono completamente grazie stefano adesso se mi fai vedere la figura 1 scusami figura eccolo quindi se apriamo il diaframma le particelle di aria scendono con maggiore profondità nei polmoni succede questo questo è un diaframma poggiato quindi i polmoni sono pieni di aria ed è quello che succede con gli esercizi che vi farò vedere dopo è quello che succede nel momento in cui iniziamo a respirare dal basso portando poi l'aria in alto questo è chiaramente i nostri polmoni a quel punto sono pieni di aria e lavorano bene e apportano anche tranquillità e serenità alla mente se andiamo a vedere adesso la figura 4 Stefano quindi apertura e risalita vedete che per quanto riguarda l'apertura ci sono due freccine che portano a destra la risalita è il momento del sostegno quindi l'apertura a destra è l'appoggio e la freccina in alto è il sostegno andiamo a vedere ancora la figura 5 e poi vi faccio vedere velocemente gli esercizi tre esercizi che sono abbastanza importanti ecco qui questa è la dimensione orizzontale e di ampiezza e quindi nel momento in cui noi inespiriamo il diaframma si abbassa nel momento in cui espiriamo c'è il sostegno quindi dimensione di verticalità e allungamento del diaframma e il fiato si sblocca e va verso l'alto ecco questo brevemente giusto per farvi capire come funziona il diaframma adesso andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui inespiriamo e respiriamo in particolare modo se mandi il primo filmato vi faccio vedere cosa succede quando arrivano gli allievi qui da me questo prima di mandarlo un attimo scusami Stefano una cosa che vi consiglio di fare nel momento in cui non ci pensate provate a ispirare velocemente con il naso e a riempire i polmoni e poi ad ispirare dalla bocca la cosa migliore sarebbe guardarsi in uno specchio di profilo e vedere che cosa succede che cosa si muove qui le persone quando vengono da me e ne ho viste parecchie centinaia quindi tutte dico proprio tutte respirano in alto nessuno respira con il diaframma quindi prima ancora di aprire la bocca di cominciare a cantare bisogna che rimparino a respirare in particolare modo vi faccio vedere nel primo filmato un mio allievo che tra parentesi è qui con noi stasera che ci segue come respirava quando è venito qui ci manda il filmato grazie Stefano troppo il filmato non parte riesce a farlo partire Stefano un attimo non mi parte datemi soltanto un attimo i famosi problemi dalla regia provo a far partire provo a far partire il secondo un attimino vediamo se va meglio col secondo aperti un po' così magari provo a richiudere è abbastanza importante perché vorrei farvi vedere che cosa è una respirazione alta eccolo ora parte eccolo qui vedete osserviamolo di nuovo rifarlo ripartire un attimino Stefano ecco vedete il movimento che viene fatto è il movimento di petto quindi in questo in questo momento lui sta facendo entrare l'aria prima dal petto e poi in basso poi nella parte bassa quindi la parte bassa dei polmoni riceve poca aria fai partire anche il secondo filmato che lo vediamo un attimo e poi facciamo questi tre piccoli esercizi e abbiamo finito un momento ansiogeno dove vedete le spalle si muovono in alto il petto si gonfia il nostro amico Jonathan che la prima volta che è venuto qui respirava in questo modo adesso ormai sono 6-7 mesi che viene a fare lezioni e ha imparato e ha imparato a respirare in maniera completamente diversa con questi tre piccoli esercizi che vi faccio vedere che sono utilissimi proprio per imparare ad abbassare la respirazione pensate anche nelle arti marziali è importantissimo per esempio nel Tai Chi o in qualsiasi altro tipo di arte marziale iniziare a respirare dal basso i cinesi dicono spostare il Qi in basso il Qi è l'energia quindi il Qi nella parte bassa dei polmoni quindi adesso io direi il primo esercizio importante per poter cercare di rendere l'aspirazione diaframmatica è questo che vediamo adesso manda pure il prossimo filmato grazie quindi allora guardiamo prima di mandarlo perfetto quindi mano sinistra sul petto mano destra sullo stomaco questo è il primo esercizio per la respirazione diaframmatica quindi il petto fermo le spalle fermo e si gonfia solo lo stomaco questo è per esempio un esercizio da fare prima di andare a letto o la mattina quando ci si sveglia o può essere un ottimo esercizio anche di consapevolezza quando siamo in macchina o siamo nei mezzi pubblici o siamo a casa ricordarsi un attimino e dire dove sto respirando e vedere se stiamo respirando in alto o se stiamo respirando in basso la respirazione diaframmatica aiuta moltissimo a calmare calmare la mente calmare il corpo soprattutto il corpo e anche impostare anche impostare la voce per esempio questa è una voce impostata diaframmaticamente in questo momento la sto facendo sentite come è diversa da una voce invece dove non c'è la respirazione diaframmatica andiamo a vedere andiamo a vedere il secondo esercizio prossimo filmato Stefano questo secondo esercizio lo facciamo sdraiati quindi sdraiati per terra su un tappetino o anche su un letto va bene su un divano ed è praticamente con un peso sullo stomaco e qui vediamo semplicemente il peso che si abbassa nel momento in cui io espiro e nel momento in cui inspiro alzo il peso si deve proprio vedere questo movimento nel momento in cui si abbassa stiamo espirando e nel momento in cui inspiriamo il peso va su una cosa importante che qui non si vede molto è tra l'inspirazione e l'espirazione lasciare un momento di vuoto quindi inspiro leggermente quindi trattengo il respiro e poi espiro vedendo lo stomaco che viene giù quindi inspiro lo stomaco va su trattengo ed espiro trattengo ed inspiro di nuovo questo è il secondo esercizio molto importante per poter respirare diaframmaticamente l'ultimo esercizio che vi faccio vedere è forse l'esercizio più importante però consiglio di farlo solo quando i primi due esercizi sono abbastanza digeriti perché questo è proprio l'allenamento del diaframma il diaframma alla fine è un muscolo e come tutti i muscoli funzionano bene quando vengono allenati quindi quando sono in movimento questo è proprio l'esercizio specifico che ci permette di allenare il diaframma mandalo pure Stefano poi lo spiego ok ci fermiamo un attimo abbiamo sempre lo stesso peso sullo stomaco qui in questo caso è la base di un vecchio videogame PS2 diciamo che peserà sui 2-3 kg ma va bene anche un volume 2-3 volumi appoggiati sullo stomaco li appoggio sullo stomaco e inspiro e nel momento in cui inspiro vado a scatti quindi inspiro pezzettini quindi in questo modo quando sono pieno mi fermo trattengo ed espiro sempre a scatti fino a che ho svuotato completamente i polmoni farlo ancora una volta Stefano trattengo ed espiro questi tre esercizi fatti continuo per un certo periodo di tempo proprio abituarsi a respirare in questa maniera ci cambiano e vi assicuro la vita proprio si impara a respirare in maniera diversa e tutto diventa molto più calmo soprattutto non solo nel momento in cui uno si arrabbia o nel momento in cui uno ha paura di qualcosa si abbassa la respirazione immediatamente entra la calma proprio vediamo il corpo che si calma quindi questo è il mio contributo a Gianni e io ho finito grazie grazie mi sono divertito tantissimo grazie pensavo che fossimo così bravi nella gestione di questi contributi proprio professionali manda il video voglio ringraziare voglio ringraziare Jonathan che è qui di che si è prestato per questi video quindi grazie c'è una domanda si ispira col naso o si ispira si inespira col naso e si ispira con la bocca ok riprendo riprendo forse avete capito quanto mi piaceva coinvolgere Vittorio sia perché questi esercizi li feci da da ragazzo simili per imparare questo tipo di respirazione ci vuole un po' sia perché proprio era bello parlare di respiro attraverso un insegnante di di canto e ci tenevo proprio a farvi capire che stiamo creando cercando di creare un nostro modo di esprimersi in armonia con con la vita creando una nostra melodia interiore e oggi siamo più negli aspetti tecnici anche questa parte che ora starò per fare sono altre cose un po' tecniche però dopo si apre si apre questo respiro ci porta dritti alle emozioni del prossimo incontro poi per capire le qualità e come queste della mente del cuore e come queste qualità prendono forma nei respiri ma prima di poter fare tutto questo è necessario conoscere il respiro nel corpo e la struttura è riferimento ci servono riferimenti strutturali per poi dare spazio sempre più alla nostra creatività all'insegna del Dhamma perché il Dhamma poi dopo ha questa capacità di rapportarsi alla vita non con rigidità ma con quella flessibilità che si esprime talvolta appunto nella nell'abilità di adattarsi e per adattarsi spesso ci vuole di capire qual è il respiro corretto più consono in quella determinata situazione non che ci sia un respiro sbagliato è un respiro giusto in sé per sé ma ci sono respiri migliori che ci aiutano ci sostengono per entrare in contatto con qualità del cuore fattori della mente ma prima dobbiamo passare da una conoscenza del respiro nel nel corpo e per fare questo cerchiamo di capire che cos'è il respiro alla fine il respiro ci sviluppa su quattro fasi Vittorio già in qualche modo ha introdotto alcuni dei temi e nella meditazione guidata abbiamo parlato di ispirazione ed ispirazione però in questi esercizi già in questi esercizi già sono state introdotte delle le pause perché in realtà la respirazione si sviluppa su su questi quattro aspetti una ispirazione una pausa una ispirazione una pausa e poi continua in questo modo e a seconda della modalità con cui si esprimono questi quattro aspetti ci sono degli impatti non solo nel corpo ma anche nel nostro cuore e nella nostra mente e allora dovremmo iniziare a familiarizzare con l'ispirazione con l'ispirazione e con le pause capire quando è il momento di dare più energia quando è il momento invece di rilassare un attimo perché oltre a queste fasi il respiro poi dopo ha anche delle modalità di solito si parla di una lunghezza del respiro e quindi corto o lungo e queste sono le definizioni standard che poi dopo troveremo nella Napanasati Sutta nel discorso sulla presenza mentale del respiro però oltre a questo c'è anche una intensità nel respiro il respiro può essere quando quando dico intensità l'associazione immediata viene fra leggero e pesante e iniziare a capire appunto cosa significa un respiro pesante qual è? è questo è uno leggero non si sente e possiamo ed è associato semplicemente all'ispirazione per esempio un respiro pesante o può essere fatto anche in ispirazione certo che può essere fatto anche in ispirazione e dopo nella pausa che cosa succede? ora tutte queste cose piano piano le cercheremo di approfondirle nei prossimi incontri però ora intanto iniziate a focalizzare la vostra attenzione su questi aspetti un respiro composto da da quattro momenti e poi dopo delle modalità che si esprimono in termini di lunghezza di intensità che appunto può essere espressa soprattutto come forma di leggerezza o pesantezza e poi c'è anche un qualcosa che non sapevo come chiamare ma considerando che prima c'era l'esposizione di Vittorio mi è venuto questo termine andamento perché in realtà il respiro non solo si compone di queste quattro fasi può essere lungo può essere leggero può essere pesante ma può essere Vittorio l'ha fatto vedere può essere a scatti in quel video l'abbiamo visto può essere a scatti oppure può essere più fluido può può essere graffiante non solo in ispirazione ma anche in ispirazione può essere invece arrotondato ha una sua ha un suo andamento può essere energetico o può essere più morbido e ovviamente si fondono queste si intrecciano queste varie modalità di respiro con le fasi che possono essere lunghe più associate a una determinata fase o possono essere più brevi e associate a un'altra questo è respiro è un mondo da esplorare è un mondo incredibile da esplorare a livello fisico per poi avere un accesso al cuore e alla mente e spesso non ce ne siamo resi conto non abbiamo dato per scontato questa cosa del del respiro deve proprio mancarci il respiro per renderci per dire dov'è che cosa sta facendo e ora invece in qualche modo andiamo a riscoprirlo a riscoprirlo nel corpo come qual è la sua qual è la sua struttura come è quale forma prende in termini appunto di lunghezza di intensità di andamento questo è quello che vi chiederemmo di fare per i prossimi giorni molte cose probabilmente alcuni di voi le hanno già sperimentate conoscono bene ok allora lasciate perdere e passate invece a esplorare direttamente quale di questi aspetti va più scoperto più sperimentato nel corpo dove sono appunto le nostre carenze e sicuramente seguendo quello che abbiamo esposto finora cercate di avere almeno un punto chiaro dove sentite il respiro nel corpo che sia al naso che sia al petto che sia all'addome ma cercate di avere un riferimento chiaro per il vostro respiro come avete capito in qualche modo l'addome è particolarmente consigliabile con la respirazione diaframmatica se non avete mai sperimentato usate questi questi esercizi che vi ha proposto Vittorio per per approfondire perché in effetti è un ottima è un ottimo tipo di respirazione ciò non significa che sugli altri due punti non ci siano interessanti scoperte da fare in realtà ognuno di questi tre punti che vi sono stati proposti hanno delle caratteristiche differenti e in alcune occasioni sono più consone per quello che in qualche modo stiamo cercando di per le condizioni che stiamo cercando di mettere insieme insieme per aiutarci a progredire nello sviluppo spirituale in una determinata condizione ma questo ora non lo tocchiamo prima esplorate prima cercate di capire cosa vi porta un respiro al naso cosa vi porta un respiro più al di petto uno all'addome come abbiamo detto quello diaframmatico è il più trascurato da parte di tutti riscopriamolo e poi dopo sentiamo qual è com'è un corpo che che respira nella sua interezza e iniziamo a vedere come questo respiro non è si sviluppa appunto non solo in quello che pensavamo essere una ispirazione un'ispirazione ma anche delle pause e queste e tutte questi elementi fra di loro si esprimono anche attraverso delle modalità questo ci dà la possibilità di conoscere il respiro nel nel corpo e dopodiché iniziamo a usare il respiro come un ponte per andare a investigare meglio il nostro cuore e la nostra mente e non solo il nostro cuore e la nostra mente ma all'interno del nostro cuore e la nostra mente quali sono quei fattori e quelle qualità che sostengono il il dhamma e sono necessari per mettere in moto il processo di risveglio il primo incontro è il il respiro nel corpo quindi riscopriamo il respiro come si manifesta nel nel corpo curiosate investigate non vi chiedo di di avere aspettative né sulla calma né sulla saggezza ma è proprio dov'è che è questo respiro iniziamo a creare questo rapporto di intimità con il respiro nella sua espressione fisica perché questa intimità ci darà la possibilità di avere un'intimità maggiore non solo con il corpo ma appunto anche con il cuore e la mente a seconda di dove siete quello che è stato detto stasera costituisce gli esercizi per da fare per i prossimi per i prossimi giorni in attesa di incontrare la relazione fra il respiro e le emozioni primarie e cos'è sulla base di quello sulla base di quello che sentite essere necessario sviluppare focalizzatevi nei prossimi giorni e lascerei ora spazio alle domande Gianna c'erano anche delle domande dirette a Vittorio ok quindi io me le sono perse se qualcuno le ha lette mi sentite sì Vittorio ti si sente prego io non ho visto le domande sì ho visto un po' di domande allora vorrei prima di tutto chiarire una cosa che gli esercizi che ho fatto vedere sono specifici per il canto perché soprattutto una domanda mi chiedeva aveva domanda aspetta che la guardo un attimo perché almeno posso rispondere direttamente mi chiedeva per esempio Valerio trovo una magnifica spiegazione utilissima ma non si corre il rischio proprio di finire in un'ossessione di tipo performativo esercitandosi così per la meditazione assolutamente sì questi non sono esercizi pensati per la meditazione ma semplicemente sono esercizi pensati per il canto nel momento in cui io canto come come diceva Gian prima importantissimo il canto non è fatto solo di musica è fatto anche di pause il respiro non è fatto di un respiro continuo ma è fatto di un respiro con delle pause e le pause nella musica sono importanti quanto le note suonate e penso che anche nel respiro le pause siano importanti quanto quello che respiriamo ah questa è la parte che mi diverte avete capito che stiamo facendo una similitudine vero? è proprio esattamente quello che volevo dire perché è fondamentale cioè non bisogna pensare a questi esercizi perché mi mi calmano per la respirazione no questi sono esercizi specifici per il canto però sono specifici anche che mi permettono di respirare in maniera diversa molte volte come ho fatto vedere il mio allievo quando viene qui che se respiri con le spalle o respiri con il petto automaticamente non riempi semplicemente i polmoni tutto lì se impari a riempire tutti i polmoni sicuramente la respirazione migliora però importante come ha detto Gianna adesso è una similitudine stiamo facendo delle similitudini poi c'era un'altra domanda dopo di Roberto mi diceva mi aggancio alla domanda di Valerio eseguo molto spesso gli esercizi di respirazione simili a quelli spiegati da Vittorio e durante la meditazione appena volgo l'attenzione al respiro mi partono inspirazioni lunghe lunghe simili a quelle degli esercizi spiegati ecco non capisco mai se questo succede per via degli esercizi o se è dovuto ad uno stato di calma a Gian questa è una domanda dove forse è meglio che rispondi tu ero distratto stavo respirando mi piaceva il tono della tua voce te la rileggo un attimo mi aggancio alla domanda di Valerio eseguo molto spesso esercizi di respirazione simili a quelli spiegati da Vittorio e durante la meditazione appena volgo l'attenzione al respiro mi partono inspirazioni lunghe lunghe simili a quelle degli esercizi spiegati ecco non capisco mai se questo succede per via degli esercizi o se è dovuto ad uno stato di calma questa è più una domanda tua mi dispiace deludervi ma più la mente è calma più il respiro è breve comunque comunque questo diamoci tempo non cercate di non cercate di capire osservate diamoci tempo altrimenti arrivavamo subito alla seconda al secondo incontro datevi il prendetevi il tempo di osservare il respiro lasciate il respiro esprimersi nel corpo e osservate questo è quello che stiamo cercando oggi di fare non stiamo cercando di creare delle connessioni con qualità del cuore o fattori mentali no è semplicemente perché questo è tutta attività celebrale noi stiamo cercando di ritornare nel nel corpo che sta respirando e e riavere una nuova nascita ingenua fanciullesca da bambino con il respiro eccolo eccolo oh senti come l'aria entra oh pausa c'è una pausa oh è uscita c'è un'altra pausa la cessazione che vorrà dire la cessazione del respiro aspettate arriviamo al sesto incontro al quinto incontro quando incontreremo la cessazione ma già scusa scusa se mi permetto ma mi ricordo proprio nella Napanasati Sutra che il Buddha dice quando c'è un respiro breve so che c'è un respiro breve quando c'è un respiro lungo so che c'è un respiro lungo quindi in realtà poi alla fine è semplicemente la consapevolezza di sapere stiamo iniziando talvolta il respiro è troppo pensato oggi facciamo un passo indietro ritorniamo sul respiro nella nella sua forma fisica e le domande sono semplici dov'è che senti il respiro e ci sono questi quattro punti tre quelli più specifiche quelli più focalizzati e il quarto è il corpo dov'è che senti il respiro come lo senti sento in queste fasi e poi vedo che tende ad avere una una a una lunghezza a una a una intensità e a un andamento so respirare con il diaframma no allora faccio gli esercizi so respirare già con il diaframma mi godo la similitudine del respiro come come canto nel fare questo poi inizieremo ad acquisire dati e nell'acquisire dati dopo cercheremo di dargli una interpretazione all'interno del damma ma non stiamo cercando di imporre il il damma sulla nostra esperienza diretta noi stiamo cercando ora di fare esperienza diretta del respiro nel corpo poi quello che abbiamo visto c'entra con il damma o no e questo piano piano lo 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 scopriremo ma non portando avanti un 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 approccio dottrinale ma sperimentale questo è un laboratorio non è un corso Gianna c'è una domanda di Davide Lucchino a cui chiedo di attivare l'audio eccomi qui ciao Gian grazie intanto per questo bellissimo laboratorio e volevo chiederti abbiamo ascoltato il respiro in questi quattro punti sì il naso torace l'addome e poi ci si è aperti a tutto il corpo sì come giustamente hai detto aprirsi al corpo spesso per il concetto che abbiamo di apparato respiratorio collocato qui risulta un po' più difficile a me personalmente quando mi apro il corpo comincio a sentire le sensazioni del corpo posso sentire il pulsare del sangue nelle vene posso sentire la pelle posso sentire le sensazioni in buona sostanza nel corpo e non so se intendi questo col sentire il respiro sì intendo questo sì questa volta cerchiamo di prendere come punto di partenza il respiro mettere in primo piano il respiro e queste sensazioni sono legate al respiro perché sono movimenti legati all'attività respirazione dell'attività respiratoria queste pulsazioni sono dovute all'ossigeno che è in circolo in qualche modo stiamo cercando sì il passaggio nel quarto passaggio è un po' difficile è quello che in genere è visto come corpo lo rivediamo proviamo a rivederlo come respiro va bene anche perché sarà ancora più difficile a un certo punto quando io vi farò la domanda qual è il respiro legato alla saggezza e vi chiederò dimmelo in termini di queste quattro fasi dell'intensità dell'andamento della della lunghezza dell'intensità dell'andamento voi mi direte ma che stai a dire la saggezza ora noi stiamo cercando di mettere al centro della nostra esperienza il respiro tutto quello che si manifesta che qual è a livello di quello che si manifesta come un'espressione del respiro qual è l'aspetto del respiro che sta enfatizzando quello che sta quello che si sta quello che stiamo sperimentando è un passaggio difficile perché noi in genere la nostra attenzione è sparsa su tantissimi oggetti esatto passa dal dal respiro al corpo dal corpo va ai pensieri alle emozioni no noi stiamo dicendo tutto in termini di respiro il questo corpo in termini di respiro che sta facendo e quel calore che magari si manifesta iniziamo a dire è un'espressione del respiro non magari la connessione non è così immediata perché c'è un processo chimico di mezzo però nonostante questo noi diciamo è in ogni caso un aspetto anche questo del respiro poi alcune di queste cose non ci si avverranno un gran che del tipo io nella meditazione guidata che stavo proponevo il calore onestamente non uso molto il calore però la la sensazione di pulsazione che viene da quella quella è una qualità della mente non è un respiro però a noi ci serve di sapere quella qualità di me quel respiro quella qualità della mente come si manifesta in termini di respiro non so se grazie c'è la mano alzata di un altro musicista lo vorrevo sentire è finito Davide basta sì finito ho un altro che è uno è un altro che è a caccia di respiri possiamo fare parlare possiamo far parlare Paolo sì va bene ci sono altre due persone forse tre scusa ho visto lui che ha alzato la mano e ci tenevo perché ne avevamo discusso di andare a caccia di respiri Paolo può parlare allora buonasera a tutti ciao a Cian ben risentito bellissima bellissima riunione come chiamarla no volevo fare farti tanti ringraziamenti perché hai reso quello di cui abbiamo parlato l'anno scorso questi tuoi video che sono già presenti molto pratico e Vittorio è veramente forte Vittorio sono un insegnante di Flauto Traverso un direttore d'orchestra ma sono partito come Flauto Traverso e volevo dare due dritte al gruppo che potevano essere utili sulla presenza e quindi ho scelto di questo penetto diaframma uno è l'esempio che si faceva sempre Vittorio ti ricordi quando eravamo piccoli ci facevano l'esempio del riso quando è sotto vuoto poi è bellissimo aprirlo in quel modo altro che ecco questa cosa godiosissima di tagliare e si apre sotto e si apre sotto e poi un'altra cosa Vittorio che ho sempre usato con i miei ragazzi di Flauto ancora continuo a usarla è H-U-A Ottimo questo non lo conoscevo contro H no H-U-A esatto che allarga tutta la gola questa parte qua e vabbè solo questo volevo ringraziarvi tanto fantastico grazie a breve grazie a tutti della pazienza ciao ciao state iniziando bravi veramente eccezionali è questo che è è questo che questo laboratorio spero che possa fare condividiamo respiri qualcuno di questi anch'io me li sono persi lo vedrete in altri incontri proprio verranno fuori queste buste di riso però ecco qual è l'ambizione se riusciamo a trasferire tutte le definizioni relative al Dhamma che abbiamo assimilato se riusciamo a trasferirle in termini di di respiri e non è che ce n'è uno che va bene e uno che va male dimmi come respiri e cerchiamo qual è la connessione con il Dhamma e se non c'è come possiamo riportarla non si tratta di manipolare il respiro non vorrei che pensaste che sto chiedendovi di manipolare il respiro mi sto semplicemente chiedendo di imparare a capire quali sono i legami fra respiro corpo e mente c'erano altre domande? sì c'è prima Margherita e poi Monica forse anche Maria Grazia intanto c'è spazio per Margherita ciao a Gian grazie e grazie anche a Vittorio e le altre condivisioni quindi volevo chiedere per i compiti a casa come come ci comportiamo in questa fase come ci comportiamo con diciamo le formazioni mentali che si manifestano in questa fase di osservazione del respiro cosa facciamo con tutto ciò che è altro e che in qualche modo voi continuate con la vostra pratica quotidiana normale però nel frattempo aggiungete questa queste iniziate a riflettere su queste cose prendervi uno spazio per dire sì ma io dov'è che il respiro di solito dov'è che entro in contatto con il respiro in quale di questi tre più il corpo punti entro e non lo so io mi sono divertito tantissimo nel buttare giù le bozze proprio la prossima volta faremo le emozioni primarie non vorrei anticiparvelo ma proprio a dire ma come si respira in questo caso come si respira in quest'altro ma prima di tutto appunto iniziate a rendervi conto ci sono quattro fasi trattengo un attimo vediamo proviamo tratteniamo rilascio poi quando rilasci come fai rilasci oppure scusa respirata non vale oppure rilasci queste piccole sfumature queste se ci sono scatti se andiamo morbidi fluidi e qualora cosa succede nel il passaggio successivo è capire cosa succede sulla base di queste modalità che facciamo però se non avete ancora imparato la respirazione diaframmatica date una 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 priorità anche a questo perché è veramente utile io mi ricordo ormai sono per me è scontato ecco anche perché ho chiesto a Vittorio di farlo perché fu una delle prime cose che mi insegnarono 25 anni fa mettendomi appunto una un libro sulla pancia e poi dopo nel corso dei mesi mi ricordo che mi ha occupato tempo per imparare però voi intanto continuate con la vostra pratica perché questa è solamente non è la pratica questo è non è quello che è alla fine del sesto corso del del sesto incontro che avremmo capito quello che stiamo facendo incluso io perché la cosa bella per cui ho detto non facciamo un corso facciamo un laboratorio è che alcune cose erano avevano uno schema ma altre sono state veramente improvvisate forse quelle migliori compreso i due musicisti che iniziano a parlare di respiro ancora c'è un'altra domanda sì a Gianna c'è prima Monica e poi Maria Grazia volevo soltanto dire una cosa è stato chiesto il calendario gli incontri sono tutti martedì c'è un link che è stato messo sulla chat sul sito di Sadda se andate sul sito di Sadda scritto col dh punto it e cercate poi il link in diretta trovate l'elenco di tutte quante le attività comunque sono tutti quanti i martedì quindi darei la parola a questo punto a Monica ciao a tutti mi sentite sì grazie per il laboratorio allora una domanda tecnica per Vittorio allora mi ricordo che quando ho preso le lezioni di canto in altre occasioni mi dicevano appunto di mettere una mano sulla pancia e sentire anche le costole laterali che si aprivano quando il diaframma si muove nel lato ispiratorio si chiama respirazione costodiaframmatica esatto quindi di mettere le mani anche sui lati questo è una cosa che ricordo bene quindi tu lo lo consiglieresti di anche sentire i lati se si gonfiano guarda sicuramente sì ma diciamo che anche nel canto questa è una fase avanzata la respirazione costodiaframmatica la fase avanzata però io ci tengo ancora a ribadire una cosa importante che ha già detto anche a Gian questi sono alla fine esercizi di canto sì sì ma infatti è una domanda anche per a Gian anzi prendo l'occasione per dire poi il nostro caro carissimo amico Sirimedo ti do facoltà se qualcuno è interessato di dare anche il mio numero se qualcuno vuole capire perché io ho parlato di respirazione ma questi esercizi poi vanno fatto con delle note sono utilissimi magari una nota semplice e lunga fatta in particolare in un particolare modo se qualcuno vuole io condivido volentieri questa cosa quindi mi iscriva in privato sono molto belli sono molto belli perché sono proprio manca proprio tutta la parte del canto qui questa è solo la parte della respirazione del canto questo è importante però io ho memoria di questa di questa pratica di sentire bene appunto perché l'addome non sempre si solleva altrettanto poi ognuno è fatto a modo suo no? sai gli esercizi quelli dell'addome sono proprio i primissimi esercizi quindi proprio il modo per allenare il diaframma quella di cui parli tu è la respirazione costo-diaframmatica che è un'altra cosa ancora diciamo anche abbastanza comunque mi viene più facile quella costo-diaframmatica e quella proprio completamente di pancia però chiusa parentesi sì volevo dire questo faccio ammissione di mancanza di presenza di presenza proprio mentale e non solo durante tutta la giornata ma anche quando mi siedo cioè io quando mi siedo mi devo riappropriare dei collegamenti col mio corpo con le mie emozioni con le sensazioni quindi il respiro mi tradisce se io gli dico di essere naturale cioè secondo un canone invece se mi lascio andare scopro veramente come sto che io stessa non sono cosciente di come mi trovo nel momento in cui mi siedo quindi quando il respiro comincia a farsi sentire da solo che vuole mangiare tanta aria perché ha bisogno proprio di ossigeno perché probabilmente non ha non ha respirato durante la giornata come si doveva quindi arrivo con un debito di ossigeno con una mancanza di presenza mentale quindi faccio dei respiri molto molto profondi volontari proprio per cercare di tornare padrona del mezzo del veicolo poi esce fuori il respiro così com'è cioè magari forte cioè il respiro a un certo punto diventa il protagonista della storia insomma non c'è la mente a quel punto soltanto a quel punto dopo aver sciecherato un po' qua e là tutto quello che ho compresso perché questo che succede alle persone magari o stressate oppure che non hanno familiarità che educano il respiro in un certo modo ma non è quello realmente che hanno dentro non so se vabbè volevo dire insomma che la presenza io la acquisisco lentamente man mano che il respiro si mostra per quello che è non per quello che io voglio che sia anche se troppo troppo o troppo di solito troppo di solito molto 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 grande ecco e dopo può diventare sottile ma non breve sottile in alcuni rari momenti può diventare sottile però ecco io quello che cerco di dire qui è che è proprio una cartina torna sole il respiro se ti lasci andare e non fai finta di essere calma non fai finta di stare bene non fai finta e ti scopri vedi quello che c'è dietro allora sei presente allora sei presente veramente a quello che c'è che c'hai che c'è dentro quindi la presenza del respiro la mente è proprio un'interferenza ecco non lo so ho parlato tanto perché sono un po' incontinente mi dispiace comunque si ripeto non noi non stiamo parlando di manipolare il respiro noi stiamo cercando di capire il respiro ok ma Gianna ma capisci che cosa vuol dire quando tu scopri che non è come come stai respirando la realtà la realtà è un'altra dopo che hai preso atto che la realtà è un'altra puoi tornare a respirare normalmente allora la fai più lunga sì 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 la fai più lunga nel senso che non è necessario se non stai comoda con il respiro prima fai una cosa preparatoria no sì esatto infatti questo è questo ma sì non stiamo non esiste il respiro perfetto non è il respiro perfetto è è la mente che va fuori equilibrio che cambia il respiro ma se poi mi dite qual è il respiro perfetto è quello della mente in equilibrio andiamo a scoprirlo ma è diverso è diverso da è diverso da persona a persona e da situazione a situazione perché l'equilibrio non è una cosa statica non so se riuscite a no non è statica l'equilibrio per definizione l'equilibrio è la capacità di saper bilanciare ma diamoci un attimo di tempo sì sì va bene allora con i respiri lunghi per iniziare anche quello è un classico sì sì quello è un classico però per entrare in contatto con il respiro sì grazie a Gian ciao ciao ci sono altre domande mi sembra a Gian c'è Maria Grazia che ha detto che la fa in un altro momento e si sono pronotate altre due persone poi facciamo queste due persone poi dopo hai tempo per tutte e due sì sì faccio adesso direi di chiudere la possibilità di fare altre domande perché è già molto tardi sì abbiamo detto alle 21 e 30 M che non so come si chiama se può cortesemente aprire eccolo ciao Elisa ciao grazie ciao a Gian ti volevo dire questo che mi è successo stasera è la prima volta che provo a fare questa cosa con i tre i quattro punti e praticamente più che con il respiro io sono stata con la mia mente in realtà che diceva sul naso ma non sento più di tanto poi il viaframma di più mi sono resa conto proprio dei discorsi che facevo intorno a queste tre modalità di respiro e me ne sono accorta in realtà non sto con il respiro sto costamente che fa questi discorsi e poi anche proprio giudizi mi piace più questo mi piace più quell'altro e mi sono vista proprio presa da questa da questo discorso e non me ne ero mai accorta così tanto ecco volevo solo dire questo non so come interpretarla sta cosa però questo è quello che mi è successo allora alcune indicazioni in mezzo a tutto questo discorrere magari le hai avute sai dove puoi in qualche modo trovare un appoggio e dove invece c'è magari un lavoro da fare per comprendere meglio in altre parole da qualche parte sei stata comoda con il respiro incomincia da lì e poi piano piano integri tutto il resto sarebbe un peccato se respirasse solamente il naso e non il resto del corpo ciao bene lascio la parola ad Antonio sono curioso di sapere che cosa domanda visto che Antonio lo vedo tutti i fine settimana ciao ciao Vittorio ciao a tutti ciao Antonio allora una domanda ma non so se porla a Vittorio o ad Ajan allora capita in alcuni momenti della giornata soprattutto in momenti di stress di tensione che il diaframma come se si contraesse come se fosse contratto e in quei momenti respirare con il diaframma sembra quasi come spingere i polmoni verso un muro come se ci fosse un blocco Antonio si conosce quale potrebbe essere quale potrebbe essere il modo migliore di di comportarsi in queste situazioni allora io ti dico la mia parte poi la lascia a Gianna perché è importante è una cosa conosciuta nel canto si chiama diaframma bloccato ed avviene proprio quando c'è un'emozione molto forte qui se tu guardi dietro di me vedi un microfono non so se lo vedi lì ecco quello si chiama blocca diaframma perché nel momento in cui devono andare su quel microfono e devono registrare qui nel mio studiolo si registra professionalmente quindi tu senti il minimo respiro un minimo rumore tu lo senti con quel microfono un microfono professionale di un certo livello e quello è quando quello parte la persona si blocca il diaframma si blocca e la persona non canta più e quindi c'è tutto un lavoro da fare e siamo veramente di fronte a niente perché stiamo semplicemente l'emozione di quel microfono che parte la mente che sa che io sto registrando la sua voce gli blocca il diaframma nel momento in cui si blocca il diaframma la persona non canta più perché ha respiro corto mette i respiri nei posti sbagliati e il canto non c'è adesso Gian digli tu come sbloccare questa cosa perché io non lo so si fa sbloccare il microfono buttiamo il microfono dalla finestra no è lo stesso funzionamento la risposta che ti ha dato Vittorio è quella siamo tipi molto emotivi siamo tipi molto emotivi ecco perché ovviamente Vittorio propone caldamente questo tipo di respirazione quella diaframmatica perché poi dopo a lui e a suoi allievi serve per cantare io ti posso consolare se ti si blocca il diaframma passiamo a altre forme di respirazione l'importante è mantenere una connessione con il damma attraverso il respiro forse anche il pollice il pollice o la mano sinistra o destra che senti lì solamente lì il respiro da lì si rincomincia magari non sarai adatto a fare il cantante ma è un futuro come praticante grazie allora allora senti per per chi ha trovato un beneficio per chi vuole continuare con noi il prossimo martedì alle ore 20 il martedì è 26 no oggi è 17 24 24 martedì 24 siamo con pienessere per il respiro e le emozioni primarie io io mi sono io mi sono divertito veramente la prima parte ero un po' un po' teso non il respiro non era poi così fluido verso metà dalla meditazione guidata mi sono sciolto e poi grazie avete creato un clima così amichevole conviviale familiare avete sono stato veramente bene quindi vi ringrazio ora vado a dormire con un respiro veramente pesante un respiro pesante è ottimale per dormire ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie alla prossima ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.